L'approvazione del DL ricostruzione è stata presentata dal centrodestra come se fosse una svolta storica, così il Partito Democratico, che sostiene che si tratta invece del minimo sindacale per la risoluzione di problemi ai quali anche loro avevano lavorato negli ultimi anni. Per il senatore Fina e gli altri esponenti dei Demma a livello locale si tratta di una legge per provvedimenti indifferibili e urgenti, a partire dalla stabilizzazione del personale dopo tante proroghe, ma anche per i provvedimenti per la scuola e per IVA preziari o ricostruzione privata. Sono mancati perfino molti provvedimenti, insomma basti pensare che 55 sono stati gli emendamenti al DL presentati della maggioranza, lo stesso numero delle opposizioni, molti identici, bocciate poi norme importanti come quelle per le vittime del sisma, Fina ripresentate un disegno di legge a tal proposito, passando poi a detto per tutto il caos sul super bonus. In realtà si è portato a casa un risultato a cui abbiamo lavorato tanti anni, in particolare intorno ai temi del personale, ma molti problemi non sono stati sbloccati. Noi abbiamo presentato norme in favore delle vittime, così come provvedimenti per risolvere il super caos sul super bonus che hanno generato loro e che ancora non è risolto. E soprattutto abbiamo ricordato quello che in questi anni, grazie a tante personalità che hanno guidato l'amministrazione comunale o che ci hanno rappresentato in Parlamento, che si sono occupati dell'Aquila, hanno fatto sì che qui arrivassero miliardi di euro di investimenti e che fossero trattate le cittadine e i cittadini di questo territorio, sia per il terremoto del 2009, sia per il terremoto del 2016-2017, come altri invece non sono stati trattati e quindi insomma un'attenzione di serie A. Perfina l'occasione è stata utile anche per parlare di politica rispondendo a Rete8. Si lavora a ritmi serrati per le regionali, ma il partito ha iniziato una nuova stagione e si cercano le alleanze. Con un PD che anche i sondaggi ci dicono torna ad essere un partito in crescita, aumenta la possibilità, se non assumiamo, cosa che non dobbiamo fare, un atteggiamento né arrogante né autoreferenziale, di allearci con tutti. Sicuramente il dialogo aperto sia col Movimento 5 Stelle sia col Terzo Polo in Abruzzo è avanzato. Abbiamo bisogno di un segnale nazionale, lavoreremo anche a quello.